Joseph Erano ebbre tutte e due, completamente ebbre, la baronessa Andrè de Frézier e la contessina Noemi de Gardel. Avevano pranzato da sole nella veranda verso il mare. Il lieve venticello della sera estiva entrava dalle finestre aperte. Era tiepido e fresco nello stesso tempo e portava il vago sentore dell'oceano. In quel momento le due giovani donne, distese sulla poltrona a sdraio, sorseggiavano dalla surtreuse, fumavano sigarette e facevano confidenze intime, confidenze che solamente quella sua vebbrezza inattesa faceva nascere sulle loro labbra. I rispettivi mariti erano tornati a Parigi nel pomeriggio, lasciandole sole su quella piccola spiaggia deserta, che avevano scelto per evitare i corteggiatori delle spiagge alla moda. Erano assenti cinque giorni su sette e avevano paura delle scampagnate, delle colazioni sull'erba, delle lezioni di nuoto e della rapida familiarità che nasce negli ozzi delle cittadine balneari. Gep e Tretà Truville dovevano essere scartate, secondo loro, e perciò avevano preso in affitto una villa costruita e abbandonata da un tipo bizzarro, nella valle di Roqueville, vicino a Féchamp. Vi avevano seppellito le mogli per tutta l'estate. Erano ebbre tutte e due. Non sapendo cosa inventare per distrarsi, la baronessa aveva proposto alla contessa un pranzo raffinato con lo champagne. All'inizio si erano molto divertite a preparare con le loro mani quel pranzo, poi avevano mangiato in allegria, bevendo parecchio per placare la sete che il calore dei fornelli aveva dato loro. Adesso stavano chiacchierando e sragionando insieme, mentre fumavano e bevevano di continuo la chartreuse. A dire la verità, non si rendevano conto di quello che dicevano. La contessa, con le gambe poggiate sul bracciolo di una poltroncina, era ancora meno lucida dell'amica. Diceva, per finire una serata come questa si vorrebbero degli innamorati. Se lo avessi previsto in tempo ne avrai fatti venire un paio da Parigi e te ne avrai ceduto uno. L'altra fece, oh, io ne trovo sempre. Se volessi, anche stasera. E via. A Rockville? Un contadino forse? No, no. Allora raccontami. Cosa vuoi che ti racconti? Chi sarebbe questo innamorato? Cara mia, io non posso vivere senza amore. Se non fossi amata, mi sembrerebbe di essere morta. Anche per me è la stessa cosa. Vero? Sì. Gli uomini queste cose non le capiscono. Specialmente i nostri mariti. Quelli non capiscono niente. E come potrebbe essere, diversamente? L'amore che ci è necessario è fatto di carezze e di gentili galanterie. È il cibo della nostra anima. È indispensabile alla nostra vita. Indispensabile. Proprio indispensabile. indispensabile. È necessario che sappia che c'è qualcuno che pensa sempre a me, ovunque. Quando sto per addormentarmi, quando mi sveglio, bisogna che sappia che c'è qualcuno che mi ama, che pensa a me, che mi desidera. Se non avessi questa sicurezza, sarei infelice, infelice, tanto infelice da piangere. Anche io. E le cose, pensaci, non possono cambiare. Anche se un marito è stato gentile per sei mesi o un anno o due, diventa poi sicuramente un brutto. Sì, un vero essere brutale. Non si scomoda più per te. Si mostra nella sua vile realtà. E fa scenate per i conti, per qualsiasi conto da pagare. È impossibile amare un uomo con cui si vive sempre. Questo è proprio vero. Dov'ero rimasta? Non mi ricordo più. Dicevi che i mariti sono tutti esseri brutali. Sì, dei bruti, tutti. Vero, vero. E dopo? Che cosa dopo? Che cosa dicevo dopo? Non lo so, non l'hai detto. Ma avevo qualcosa da raccontarti. Sì, è vero. Aspetta. Ah, ho trovato. Ti ascolto. Ti dicevo dunque che sono capace di trovarmi innamorati in qualsiasi posto. E come fai? Ecco, stammi a sentire. Quando arrivo in un posto nuovo, faccio prima l'inventario e poi la scelta. Fai la tua scelta? Sì, naturalmente. Prima mi informo. Un uomo deve essere anzitutto discreto, poi ricco e generoso. Non è così? Certo. E poi bisogna che un maschio mi piaccia. Naturalmente. Allora l'adesco. Tu lo adeschi? Sì. È come prendere un pesce. Hai mai pescato con l'amo? No, mai. Male. È divertente. È istruttivo, dunque. L'adesco. Come fai? Non essere sciocca. Via! Lo sai che noi prendiamo sempre gli uomini che desideriamo, ma facciamo in modo che siano loro a scegliere quegli imbecilli. E invece siamo noi a decidere, sempre. Quando una come noi non è né brutta né stupida, tutti gli uomini possono essere dei pretendenti. Tutti. Senza eccezioni. Noi li passiamo in rivista dalla mattina alla sera e quando abbiamo scelto uno lo adeschiamo. Però non mi dici come si fa. Come faccio? Ma non faccio niente. Mi lascio guardare tutto qui. Ti lasci guardare? Ma sì, è sufficiente. Quando una donna si lascia guardare parecchie volte, un uomo la trova subito la più bella e seducente di tutte le donne. Allora comincia a farle la corte. Io gli lascio capire che non mi dispiace, ma si intende senza dire niente di preciso. E lui allora si innamora perdutamente. Lo ha chiappato. Il tempo corrente e la durata dipendono dalle sue qualità. E così ti prendi tutti quelli che vuoi. Quasi tutti. Allora ci sono quelli che resistono. Qualche volta. E perché? Oh perché? Certi fanno la parte del casto Giuseppe per una di queste tre ragioni. O sono molto innamorati di un'altra, o sono eccessivamente timidi, o sono come dire incapaci di interessarsi alla conquista d'una donna. Oh cara, pensi che... Sì sì, ne sono certissima. Tu non immagini neppure quanti sono quelli che appartengono a questa categoria. Molti, molti di più di quanto si crede. E vada che alcuni hanno un aspetto uguale agli altri, sono vestiti come tutti gli altri. Ma si pavoneggiano. No, non esatto dire si pavoneggiano, perché in verità questi qui non hanno un bel niente da mettere in mostra. Oh cara, quanto ai timidi, qualche volta sono d'una goffaggine incredibile. Non si spoglierebbero mai questi, nemmeno per andare a letto da soli se soltanto hanno in camera uno specchio. Con quelli di questo tipo occorre essere energiche, utilizzare gli sguardi, le strette di mano. Qualche volta però è inutile. Non sanno mai né di dove né come cominciare. Quando una donna come ultima risorsa sviene davanti a loro, sono capaci di soccorrerla. E se lei tarda a riprendere i sensi, vanno in cerca di aiuto. No, preferisco quelli che sono innamorati di un'altra. Costoro io li prendo d'assalto e alla baionetta, mia cara. Va tutto bene, ho capito. Ma quando, come qui, non ci sono uomini? Io li trovo. Li trovi? E dove? Dappertutto. Mi viene in mente una cosa. Due anni fa mio marito mi ha costretta a trascorrere l'estate nei suoi possedimenti di Bugroll. Lì niente. Capisci? Proprio niente di niente. Nei castelli dei paraggi solo qualche tangaro ripugnante, qualche cacciatore che vive senza vasca da bagno. Tipi che sudano e vanno a letto in quello stato. Non c'è verso di correggere questa gente, perché la sporcizia fa parte del loro modo di concepire la vita. Allora, indovina cosa ho fatto? Non indovino. Avevo letto tanti romanzi di Georges Saint, in cui l'uomo del popolo viene esaltato. Romanzi in cui tutti gli operai sono sublimi e tutti gli uomini della buona società criminali. E poi nell'inverno precedente avevo letto Guy Blah e ne ero rimasta affascinata. Bene, uno dei nostri contadini aveva un figlio, un bel ragazzo di 22 anni, che aveva studiato per farsi prete. Poi ci aveva ripensato e aveva lasciato il seminario. Così l'ho assunto come domestico. Oh, e poi? Poi, mia cara, l'ho trattato con alte rigia, anche se mettevo in mostra davanti a lui molte parti del mio corpo. Non che volessi adescare quel mezzo contadino. Volevo soltanto infiammarlo. Oh, Andrè! Sì, mi divertivo assai. Dicono che i domestici non valgono nulla, e lui non contava. Era come se non esistesse. Tutte le mattine suonavo il campanello per dargli ordini, proprio quando la cameriera mi vestiva, e qualche volta anche la sera, quando mi spogliava. Oh, Andrè! Cara, lo facevo bruciare come un tetto di paglia. Poi, a tavola durante i pasti, non facevo che parlare di pulizia, di cure del corpo, di docce e di bagni frequenti. Tanto che dopo quindici giorni, quel domestico stava a mollo nel fiume dalla mattina alla sera, e poi si profumava con tale abbondanza a morbare tutto il castello. Dovetti persino proibirgli di profumarsi in quel modo. Gli dissi con sostenutezza che i veri uomini usano soltanto l'acqua di colonia. Oh, Andrè! Mi venne poi l'idea di allestire una biblioteca in campagna. Feci venire un centinaio di romanzi morali, che prestai a tutti i contadini e ai domestici. Nella mia scelta c'era anche qualche libro, qualche libro, come dire, poetico, di quelli che turbano le anime semplici dei collegiali. Quelli li regalavo al cameriere, e così avrebbe imparato a conoscere la vita. Questa strana vita. Oh, Andrè! E a quel momento ho cominciato a trattarlo con maggiore familiarità, dandogli del tu. L'avevo ribattezzato Joseph. Cara, si era ridotto in uno stato, in uno stato spaventoso, magro come... come un merduzzo, e mi dardeggiava di continuo con certe occhiate. Io mi divertivo come una matta. È stata una delle estati più belle per me. E... dopo? Dopo? Sì. Un giorno che mio marito era assente, gli dissi di attaccare la carrozza perché volevo andare nel bosco. Faceva caldo, un gran caldo. Ecco. Andrè, ti supplico, raccontami tutto. Mi diverto tanto. Prendi, bevi un bicchierino di Chartres anche tu. Altrimenti finisco la bottiglia da sola. Dunque, dopo, per la strada, mi sono sentita male. E come mai? Sei proprio una stupidina. Gli ho detto che mi sentivo svenire e che doveva coricarmi sull'erba. Poi, una volta distesa, ho avuto un senso di soffocazione e gli ho ordinato di sbottonarmi il corsetto. Una volta sbottonato, sono svenuta. Completamente? Certo che no, diamine. E allora? Allora sono dovuta rimanere per quasi un'ora priva di sensi. Joseph non trovava il giusto rimedio. Ho avuto tanta pazienza e ho riaperto gli occhi soltanto dopo la sua capitolazione. Oh, Andrè. E che cosa gli hai detto? Io? Niente. Che ne sapevo di quel che era accaduto durante il mio svenimento? L'ho tanto ringraziato e gli ho detto di rimettermi sulla carrozza e di riportarmi al castello. Ma per poco, entrando dal cancello, non ci ribaltavamo. Oh, Andrè, è tutto qui? Tutto. Sei svenuta una sola volta? Una volta sola per Dinsi. Non volevo far diventare il mio amante quel contadino. L'hai tenuto ancora per parecchio tempo? Dopo l'incidente? Certo, ce l'ho ancora. Perché avrei dovuto licenziarlo? Non avevo nessun motivo di lagnarmi di lui. Oh, Andrè. E lui è sempre innamorato. Vorrei vedere. Dov'è adesso? La baronessa tese il braccio verso la parete e premette il bottone elettrico. La porta si aprì quasi subito. Comparve un aitante domestico che spandeva attorno a sé un forte odore di acqua di colonia. La baronessa gli disse, Joseph, ragazzo mio, ho paura di sentirmi male. Va a chiamarmi la cameriera. L'uomo rimase immobile come un soldato di fronte all'ufficiale. Posò uno sguardo di fuoco sulla padrona, che continuò. Fa presto, scioccone. Oggi non siamo nel bosco e Rosalì mi assisterà meglio di te. Allora lui girò sui tacchi ed uscì. La contessa preoccupata chiese. E adesso cosa dirai alla cameriera? Le dirò che è passato tutto. No, mi farò slacciare il corsetto da lei. Così mi sentirò un po' sollevata. Non ce la faccio più a respirare. Sono ebbra, mia cara. Ma ebbra a tal punto che se mi alzassi cadrai lunga per terra. Grazie. 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 Grazie.